Impresa Confiabile cerca in ogni modo di voler dare una mano a noi piccoli imprenditori che cerchiamo di andare avanti un discorso di divertimento che deve essere sempre all'apice della professionalità e all'apice del successo soprattutto. Un incontro molto ma molto familiare, un ambiente accogliente e grandissima professionalità. Decidiamo un percorso formativo, uno start-up di marketing che mi sarebbe valso un bagaglio personale pieno di tante nozioni importantissime. Professionalità e successo ma soprattutto grande impegno vanno a braccetto con il nome Impresa Confiabile.